È stata una domenica di lutto per le comunità di Palagianello, La Terza e Palagiano. I tre comuni della provincia di Taranto hanno salutato per l'ultima volta ieri pomeriggio le tre vittime della tragedia stradale avvenuta nella serata di venerdì 3 febbraio sulla Statale 7, tra Castellanete e La Terza. Nella parrocchia regina del Santo Rosario di Palagianello, familiari e amici hanno detto addio ad Alessandra Berardi, di 32 anni, la più giovane dei tre. Una folla commossa accolto all'uscita dalla chiesa, gremita di persone, una bara bianca, mentre palloncini dello stesso colore sono stati liberati in cielo, in un silenzio surreale. Nello stesso momento, nella vicina La Terza, venivano celebrati i funerali della 43enne Antonella Sportelli. All'uscita del feretro, momenti di dolore e commozione fuori dalla chiesa dello Spirito Santo, anche questa affollata di parenti e amici della donna. Quasi in contemporanea, anche le esequie di Stefano Tagariello, 36 anni, celebrate nella parrocchia Maria Santissima Annunziata di Palagiano, dove la sua famiglia ha una storica azienda di prodotti petroliferi. Tre amici, accomunati dallo stesso tragico destino. Uno scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiavano, un Alfa Romeo mito ed un fiorino Fiat. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle vittime. Restano gravi invece le condizioni dell'unico superstite del drammatico schianto, un 32enne di Ginosa, che era alla guida del furgone. Ieri, durante i funerali, si è pregato anche per lui, nella speranza che al dolore, per tre giovani vite, volate via troppo presto, non si aggiunga altro dolore.